L'Abruzzo si prepara ad accogliere appassionati di vino e professionisti del settore per la prima edizione dell'Italia Wine Experience Abruzzo Edition, che si terrà sabato 8 giugno 2024. Questa manifestazione esclusiva mira valorizzare i prodotti enogastronomici della regione, promuovendo la qualità e la tradizione di un territorio ricco di eccellenze. Siamo molto onorati di essere stati scelti da Italia Wine Experience per questa edizione Abruzzo. L'evento è un evento di enogastronomia, principalmente votato alla degustazione dei vini, tutti i vini comunque abruzzesi, delle cantine abruzzesi. E poi proporremo anche noi alcuni piatti che potranno essere degustati durante la giornata all'aperto, passeggiando nel prato. Poi ci saranno delle masterclass e infine una cena di degustazione all'interno del ristorante la sera. L'evento si propone di comunicare la forza dell'Abruzzo, una terra di antiche tradizioni vitivinicole, e di valorizzare la sua immagine presso un pubblico di intenditori e media, con un occhio di riguardo verso i visitatori. Il Podere Santa Lucia, una prestigiosa azienda agricola nel comune di Tossicia, nel Terramano, sarà la cornice di questa esperienza, offrendo un assaggio delle capacità ricettive e della bellezza delle campagne abruzzesi. Noi siamo davvero fortunati a stare in questa regione, perché abbiamo la possibilità di avere la montagna a mezz'ora di macchina, come anche il mare a mezz'ora di macchina. Con questa struttura ci capita spesso di ospitare dei turisti da fuori, soprattutto dal Lazio, o comunque anche dalle Marche, e rimangono tutti estasiati. Molti addirittura proprio ci dicono, non immaginavamo che esistesse tutto questo, perché forse il turismo in Abruzzo è ancora tutto da scoprire, insomma, una regione ancora tutta da scoprire, quindi chiunque viene ne rimane affascinato. Con l'Italia Wine Experience Abruzzo Edition, l'Abruzzo si conferma come una destinazione enogastronomica di primo piano, una regione pronta a offrire un'esperienza indimenticabile che celebra il meglio della sua produzione vitivinicola e gastronomica.